E' troppo vicino. Di chi sono quelle scarpe? Di chi sono? Di chi sono quelle scarpe? E' un buon bebé? Armi un po' vedere come cammini. Ah, ah, ah. Baga amica... si rinuncia c'è il cane non me lo togliere mi sa che si sta già provando non togliere il cane che fa la guardia alle scarpe il cane mi viene incontro non riesco a prenderlo grazie